La prima cittadina di Battipaglia, Cecilia Francese, risponde al responsabile provinciale degli enti locali di Fratelli d'Italia, Ugo Tozzi, sulla mancata sospensione dei pagamenti di Tosap e Cosap nel comune di Battipaglia. Con un post su Facebook, la francese scrive Mi stupisco delle dichiarazioni lette in merito a Cosap e Tosap e del sensazionalismo che voleva darsi a tali dichiarazioni, a parte il fatto che la sottoscritta in sede ANCI è stata fra quei sindaci che maggiormente hanno spinto affinché l'associazione dei comuni si facesse portatrice presso il governo della necessità, della gratuità, della concessione degli spazi pubblici necessari a pubblici esercizi per evitare che questi fossero costretti a ridurre il numero dei tavoli che avevano prima della epidemia. In merito alla Tosap e alla Cosap, scrive la francese, il 22 maggio si è concesso per il periodo dal 31 maggio al 31 ottobre l'esonero dal pagamento della Cosap e della Tosap per le imprese di pubblico esercizio. Poi dal governo la proroga delle sensioni al 31 dicembre e qui la sindaca spiega Quindi la proroga di cui ha parlato il dottore Tozzi è prevista dalla normativa nazionale senza bisogno che venga recepita Ma per tranquillizzare il dottore e tutti i cittadini vi informo che anche in questa occasione il Consiglio Comunale delibererà per estendere l'esonero alle aree diciamo in più che servono ai pubblici esercizi per non perdere posti pur mantenendo il distanziamento previsto dalla normativa. Inoltre vi informo che si è trovata nel bilancio la copertura per tenere conto in relazione alla Tari del fatto che alcune attività economiche erano state costrette a chiudere per decreto a causa dell'epidemia.